Come sta affrontando la sua azienda l'innovazione e quali strategie per la personalizzazione dei servizi e come sviluppate le competenze dei vostri dipendenti? In COP stiamo seguendo con grande attenzione le potenzialità dell'innovazione. L'intelligenza artificiale è una delle frontiere che va conosciuta e sperimentata. Quindi siamo veramente in una fase di sperimentazione a tutto campo dove l'utilizziamo principalmente per comprendere come questa nuova tecnologia generativa possa aiutarci a rispondere meglio ai bisogni e alle necessità dei nostri clienti attraverso dei meccanismi che facilitino l'interazione sia del nostro personale che può avere grandi vantaggi anche formativi attraverso le potenzialità dell'intelligenza artificiale proprio per migliorare la relazione. Abbiamo delle sperimentazioni innovative sia sul fronte della merce per riduzione degli sprechi, per efficientare al meglio la catena di rifornimento e mai far mancare i prodotti che servono ai clienti ma sperimentazioni interessanti anche attraverso Copvoce, la nostra linea di telefonia, dove stiamo cercando di ridurre il più possibile i tempi di attesa che sono già brevi per dare risposta alle necessità di informazione dei nostri utenti. Grazie. 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 Grazie.